Il ministro Armin Gancat explica che nel momento in cui il governo è assinta, un giorno il primo relato con l'angraia, che si tratta di una situazione finanziaria del paese. Il ministro dice che un giorno ha appunto la sua attenzione e la preoccupazione del stato del nostro apparato pubblico. E dice che si conosceva che fuori del 2010, che si tratta di più a poco di reinvertire il nostro apparato pubblico, che si tratta di quel grado di motivazione in questa maniera. Il ministro Armin Gancat explica che il progetto, che si tratta di un'unico 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 che si tratta di un'unico.